Si è sciolto ieri il Consiglio Comunale di Pescara, ci si avvia grandi passi verso le elezioni amministrative del 26 maggio, tempo di bilanci per il Sindaco Marco Alessandrini, tante gioie e anche qualche dolore in questi cinque anni. La vita naturalmente, poi tu fai la somma fra l'una e le altre, come ho detto ieri in Consiglio Comunale, sicuramente prevalgono le gioie per il grandissimo onore che ho avuto in questi anni di rappresentare la città, la mia città, e io penso che questo sia davvero l'onore più grande che una persona possa avere. Io sono convinto di essermi speso con le mie energie, di aver tenuto fede alla lettera, all'articolo 54 della Costituzione, la mia stella polare, cioè disciplina e onore nell'adempimento di funzioni pubbliche, e adesso ci avviamo al gran ballo delle elezioni. La realtà risulta, certamente ci dispiace di non essere stati nei tempi per procedere alla sua approvazione, però esiste, è un progetto che potrà essere migliorato, portato avanti dalla nuova amministrazione, che rappresenta una questione concreta, non fantasie varie, rispetto ad una questione che purtroppo richiede scelte, perché non ci sono soluzioni gratis mai nella vita e nell'azione amministrativa naturalmente. Lei già nelle settimane scorse aveva detto che non si sarebbe ricandidato, ma continuerà a fare politica Marco Alessandrino? Io penso che non sarò mai un cittadino indifferente, politica per me significa polis, significa città, significa in qualche modo dare sempre un contributo, e penso che si possa continuare a farlo, a prescindere dai ruoli elettivi, e in questo senso senz'altro continuo il mio impegno politico e civico.